Eccolo qua ragazzi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Guardate che c'è qua ragazzi, Capiton Tsubasa, ops è caduto il telefono Capiton Tsubasa Rise of New Champions, guardate, bello Ecco qua, Capiton Tsubasa Rise of New Champions per la Nintendo Switch Questo gioco ragazzi cambierà questo canale, guardate che bello Eh sì, l'ho comprato da pochissimo, infatti non l'ho fatto vedere perché non l'ho potuto fare vedere Ma adesso ragazzi ve lo faccio vedere, un bel unboxing Facciamo ragazzi, un bel unboxing Intanto ragazzi non fate caso a me che sono sempre raffreddato, non so perché Vabbè, questo è il davanti ragazzi Capiton Tsubasa, intento Switch Questo è il dietro, questo è il centro diciamo Questo qua, invece c'è scritto Capiton Tsubasa L'ho messo storto Capiton Tsubasa Rise of New Champions E apriamo ragazzi E questa è la schedina La schedina che si mette dentro la Switch Ora io, per uscirla, non vorrei romperla Però ok Guardate Bella È classica La schedina per la Nintendo Switch Questo tutti Tutti quelli che hanno la Switch Eh lo sanno, guardate Una piccola schedina che dentro c'è un gioco enorme Cioè enorme Quando si intende di calcio è enorme Quando si dice così è così Si parla solo di caccio Questo è Capiton Tsubasa Non c'è combattimenti come Dragon Ball Cose Con le macchine No, è solo caccio Caccio fantascienza Perché Non è proprio caccio caccio È un caccio Fantascienza Diciamo, no? Perché Pure con Dragon Ball È un combattimento Fantascienza Perché Dragon Ball I colpi d'aura Non esistono Quindi è fantascienza Capiton Tsubasa Il tiro della tigre Queste cose qua È fantascienza pure Quindi È un gioco di calcio Fantascienza Diciamo così Guardate qua È sempre un gioco Di un cartone animato Quindi ragazzi Ecco qua Ah ragazzi Aspettate Adesso metterò I miei giochi preferiti Nel video Ragazzi guardate Sono qua Mi vedete? Ok Eccoli qua ragazzi Ragazzi guardate I giochi che cambieranno Questo canale Dragon Ball Z Kakarot È Capiton Tsubasa Rise of New Champions I giochi che cambieranno Questo canale Anche a me Perché io Questi giochi Li adorerò Qua abbiamo Il voto 10 E il voto 10 Che sono Anzi 100 e 100 Ragazzi Questi si che sono Due giochi Che devono portare Veramente tutto Devono dare esempio Ragazzi Questi due giochi Devono dare esempio Perché sono Due giochi Su due Grandissimi Cartoni animati Di Praticamente Che meritano La corona Capiton Tsubasa E Dragon Ball Ragazzi Non è la stessa cosa Però Questi giochi Hanno Veramente Il soprannome Di giochi Di quel cartone animato Perché Dragon Ball Z Kakarot Può dire Che è Dragon Ball Z Mentre gli altri Pure Nessun Blast Così è così Perché Qua ti raccontano La storia Pure quando Goku raccoglieva Le mele Per Gon Cioè va Per farvi capire Quando pescava Questo Capiton Tsubasa Invece Sì Lo possiamo dire Non è proprio Coerentissimo Alla storia Lo sappiamo Detto il neo In Francia Però È un gran gioco Anzi È l'unico gioco Di Di Oli e Benji Capitano Tsubasa Per una console Dragon Ball Ha iniziato I suoi giochi Dalla Playstation 1 Fino Alla Playstation 5 Se possiamo Possiamo dire Capitano Tsubasa Invece C'ha solo questo Come gioco Principale Poi abbiamo Giochi Dalla Playstation 1 Che però Non hanno fatto Nenche successo Uno Della Playstation 2 Che è Come il gioco Di Capitano Tsubasa Questo è Se tu cerchi Capitano Tsubasa Su Google Capitano Tsubasa Gioco Ti può uscire Questo Mentre Mentre Se scrivi Dragon Ball Per Xbox Playstation Non ti uscirebbe Subito questo Ti uscirebbero Un sacco Di altri giochi Ragazzi Mentre Capitano Tsubasa Se scrivete Capitano Tsubasa Gioco Ti uscirebbe Questo Ok ragazzi Vediamo I loro Interni Qua abbiamo La schedina Bellina E qua Abbiamo Il disco Bellino Il disco Discoso Che neanche c'è Perché ci sto Giocando Tantissimo Ragazzi Qua abbiamo Un disco Discoso Che è Molto bello Però ragazzi Ci sto Giocando Sempre Se volete Video Ve li porterò E da Max Gamer Official E tutto Ragazzi Viva Dragon Ball E Capitano Tsubasa Si qua Giochi sono Il mio Simbolo Se voi Scrivete Simbolo Di Max Gamer Official Vi usciranno Questi due Giochi Qua Da Max Gamer Official E tutto Ciao Ragazzi Eee Wop